Ben trovati amici del Centrometrio Italiano. Sole prevalente e caldo in Italia ma non mancherà qualche temporale. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 25 luglio. Al mattino qualche innocua nube specie sui rilievi alpini e prealpini prima che al pomeriggio si sviluppino locali acquazioni temporali sulle Alpi e sugli appennini settentrionali. Tempo stabile e generalmente soleggiato altrove. Residui precipitazione in serata e inottata sull'arco alpino, il locale sconfinamento sulle zone piedemontane, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Concludendo con le temperature sia le minime che le massime rimarranno stabili o tenderanno ad aumentare. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometrio Italiano. Grazie per la visione!